Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Oka Anakapa 2 Mid GTX Praticamente lo scarponcino da trekking di casa Oka Adesso insieme vediamo pregi e difetti all'interrogazione completa Iniziamo come al solito da qualche caratteristica fornita dalla casa per queste Anakapa 2 Per quanto riguarda la suola troviamo una Vibram Mega Grip con un tassello da 5 mm Un'intersuola in eva con un drop di 8 mm Una tomaia formata da due tessuti sia in pelle che sintetico Il tutto per un peso di 510 grammi nella taglia 42 uomo Adesso abbiamo visto un po' di caratteristiche, iniziamo con i pregi e difetti Iniziamo qua al solito dalla suola di questa Anakapa 2 Mid Come vi dicevo una Vibram Mega Grip con un tassello alto 5 mm Che dire, il Mega Grip è sempre un po' una garanzia, è una suola che va bene praticamente un po' ovunque Roccia bagnata non ha nessun tipo di problema Avendo questo bel tassello alto da 5 mm anche sul fango si difende veramente molto molto bene Devo dire che a livello di suola davvero mi sono trovato molto bene È forse la parte anche migliore di tutta la scarpa Continuiamo, passiamo a parlare dell'intersuola Come vi dicevo qui troviamo un'intersuola in eva con un drop di 8 mm Il drop è molto interessante perché essendo abbastanza basso per uno scarponcino a trekking Ci permette di avere una camminata molto naturale Una camminata una bella rullata Per quanto riguarda in sé l'intersuola è molto morbido Quando ci si cammina davvero si ha un senso di morbidezza Si riesce a camminare per tante tante ore senza avere problemi a ginocchia E anche quando si utilizzano degli zaini particolarmente pesanti Devo dire che dal punto di vista della rigidità mi ha abbastanza stupito Perché mi immaginavo una scarpa molto più morbida E invece devo dire che comunque ha una certa rigidità Diciamo tendenzialmente un pochino sotto quello che è uno scarpone semirigido Non ci aiuta tanto nel momento in cui dobbiamo andare a fare roccette Però in confronto ci dà comunque un'ottima stabilità Nel momento in cui magari andiamo su spendenze particolarmente elevate Infine per quanto riguarda l'intersuola troviamo nella parte posteriore Una pinna bella pronunciata che ci aiuta nel momento in cui andiamo a camminare di tallone Molti di noi quando camminano vanno ad appoggiare proprio come si suol dire Col piede a martello senza ammortizzare troppo con le ginocchia Quindi questo ci può evitare che questa camminata un pochino innaturale Vada a farci sentire male le ginocchia Devo dire comunque che è uno scarpone Veramente molto ben progettato nella parte dell'intersuola Arriviamo a parlare della tomaia iniziando dal puntale Qui troviamo un puntale che è veramente molto molto rigido È un puntale col quale possiamo prendere a calci una roccia E non avremo nessun problema davvero ben protettivo Come dicevo all'inizio la tomaia è fatta in due parti Abbiamo la parte anteriore che è parte sintetica ed è anche quella più traspirante E poi diciamo dal mesopiede fino al tallone troviamo tutta una parte in pelle Devo dire che la traspirabilità di questo tomaia è forse la parte più che meno mi ha convinto di questo scarpone Nel senso che è uno scarpone in cui si suda parecchio Io ho sudato parecchio È uno scarpone che vi consiglierei più per le mezze stagioni O comunque quando fa particolarmente fresco In compenso però è un materiale che sicuramente durerà nel tempo Farsi che questo scarpone riusciamo ad utilizzarlo per tanti anni È complice anche ai lacci ma ne parliamo dopo Devo dire che il piede all'interno è veramente molto ben serrato Infine per quanto riguarda la tomaia troviamo una membrana in Goretex Che per quanto riguarda l'impermeabilità non ha nessun problema Arriviamo a parlare del tallone Qui troviamo un tallone veramente molto strutturato Un classico tallone di uno scarponcino da trekking Pian piano che saliamo si destruttura Fino ad arrivare a trovare una linguetta nella parte posteriore Che va ad avvolgere il tallone d'Achille Questo ci aiuta davvero davvero tanto Nel momento in cui andiamo a fare delle pendenze Soprattutto quando andiamo a camminare Su una salita con una pendenza veramente alta Devo dire che questa particolare pinna posteriore Aiuta veramente tanto Per quanto riguarda poi l'altezza Questo è il modello mid Quindi con l'altezza fino al malleolo Ed esiste anche la versione bassa Se doveste preferirla E invece per quanto riguarda l'imbottitura Abbiamo un'imbottitura abbastanza ben fatta Molto spessa Che anche quando andiamo a camminare su dei punti di traverso Ci sostiene molto molto bene Devo dire un tallone veramente molto ben progettato Molto ben costruito Per quanto riguarda linguette lacci Linguetta classica di uno scarpone da trekking Molto classica Lacci anche loro fatti bene Non ho avuto nessun problema In compenso come vi dicevo prima Tra la tomaia e i lacci Quando mettiamo il piede all'interno Questo riusciamo a serrarlo veramente Con un'ottima precisione E la scarpa segue veramente molto bene L'andamento del piede Per quanto riguarda la soletta All'interno troviamo una soletta proprietaria Oca, estraibile Io comunque mi ci sono trovato bene Andrei tranquillamente avanti A utilizzare quella data in dotazione Per quanto riguarda la calzata Vi assicuro che troviamo una calzata veramente ampia Se siete persone che hanno una pianta larga Con questa scarpa vi ci troverete molto molto bene Questo è un pro per chi ha la pianta larga È un contro invece per chi ha una pianta stretta Non tanto perché si muove dentro il piede Ma perché avendo una pianta così larga Quando andiamo a camminare su qualche roccetta Non troviamo dei punti in cui magari Dobbiamo lavorare un po' con la punta del piede Per passare qualche roccetta E lì si sente che abbiamo un avampiede Veramente molto molto grosso E questo fa sì che la scarpa Tenda essere poco precisa Detto ciò A chi consiglio questo tipo di scarpone Io mi sento di consigliarlo praticamente un po' a tutti Sicuramente a chi ha una pianta molto larga Perché veramente nella parte anteriore C'è tanto spazio Persone che sia si avvicinano al mondo della montagna Sia magari vanno in montagna da un po' di tempo Persone anche pesanti Non hanno nessun problema Però comunque l'intersuola ha un bel sostegno E dove la utilizzerei a livello di sentieri Io vi direi sentieri escursionistici, turistici Roccia Sì se è roccia piatta Cioè placche eccetera Cioè roba in cui si va in aderenza Se iniziamo ad avere punti in cui dobbiamo lavorare di punta Ve lo sconsiglio Perché lì si sente che è una scarpa poco precisa E l'avampiede che è troppo grosso Dunque arriviamo alle conclusioni per queste Oka Anakapa 2 Mid GTX Vengono vendute a 180€ sul sito ufficiale di Oka Si trova sui 160€ Per il consiglio sì Sì perché è un ottimo scarpone Per chi cerca una scarpa a pianta larga È un ottimo scarpone per tutte quelle persone Che hanno bisogno di tanto sostegno E soprattutto anche un'intersuola bello morbido Ottimi materiali Soprattutto anche la suola Vibram Non ha nessun problema Una garanzia Sicuramente come vi dicevo Da utilizzare magari più nelle medie stagioni O comunque non in estate quando fa caldo Perché lì suderete parecchio Dato ciò ragazzi Una speranza di essere stato esauramente sostitivo Anche per questa recensione Vi ringrazio per la guardata E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao